... ... la mia moglie la mia moglie la mia moglie è un po' e non si perché la mia moglie ha fatto sentare 5 bar un altro duro è un nuovo uno parte uno parte e dopo facciamo sentare altri due sì è un sacco e non ci sono delle specie si è un sacco e non ci sono ma è un sacco e non ci sono e non ci sono un sacco Grazie.